Dipot è un brand dell'eleganza maschile tutto tondo. Nasce nel 2016 per volontà del nostro imprenditore Ivano Panzeri. Già fermato nel mondo del femminile, aveva la necessità, la voglia e il desiderio di portare avanti una tradizione di famiglia quale la barberia. Ha pensato a un prodotto di grooming completamente sviluppato sulla tradizione e l'innovazione delle formule dedicate alla beauty routine maschile. Dipot è un brand lanciato, come dicevo, nel 2016, inizialmente nel canale professionale dedicato ai saloni unisex e ai barbershop. Successivamente abbiamo colto l'occasione di entrare nel mondo del fashion, visto che aveva una certa presa soprattutto per l'eleganza del brand stesso. Infine, sempre per volontà del signor Ivano Panzeri, abbiamo sviluppato la prima esperienza B2C. Siamo presenti su Varese, Milano e Parma con tre negozi monomarca dedicati alla bellezza maschile, cosmetica e l'inserimento anche di una barberia dedicata appunto all'eleganza dell'uomo. Oggi ci troviamo nel flagship store di Varese, il primo nato per volontà anche di appartenenza alla città, Varese, in una location estremamente prestigiosa come Piazza Montegrappa, i portici che hanno reso famosa anche la città. Abbiamo scelto una location di prestigio proprio per rendere al brand la giusta immagine, la giusta importanza. All'interno del negozio potrete trovare prodotti cosmetici, accessori moda, quali scarpe, sciarpe, cappelli, dei partner che hanno aderito alla nostra iniziativa inserendo sartoria napoletana, conulturale, inserendo calze, red, tutti i prodotti di collezione uomo ed infine ovviamente la coccola per noi uomini, la barberia Mr. Fox. L'idea di accogliere al meglio i nostri clienti è stata ovviamente replicata in un negozio molto rappresentativo del brand a Milano, Alzaia Naviglio Grande e soprattutto a Parma una recente apertura del venerdì scorso 25 settembre ha permesso all'azienda di sconfinare dalla regione Lombardia e entrare in un territorio molto interessante come la provincia parmense in grado di darci sempre eccellenza e qualità. Recentemente è nata una collezione di profumi di Personal Fragrance per l'uomo, una Eau de Toilette Essay de Parfum dedicate a un uomo che vuole portare il profumo di Dipot per tutto il giorno con sé.